Penso che l'arte, soprattutto in questi ultimi due anni, mi immagino che sia anche un effetto della pandemia, stia assorbendo un pensiero post-umano e del post-umanesimo, del post-antropocentrismo in maniera estremamente profonda e anche drammatica, ecco, perché come in tutto il mondo era super accelerato, andava velocissimo, non c'era neanche tempo di pensare. Con un oiato di due anni della pandemia, tantissimi artisti si sono ritrovati improvvisamente senza più mostre, senza più gallerie e secondo me quello ha innestaccato un ripensamento delle priorità e anche, se vuoi, un approfondimento di tematiche che magari erano già presenti in nuce nel loro lavoro ma che sono esplose in una congiunzione tra l'arte e vita perché alla fine è quello anche che conta, come l'arte ci aiuta a vedere il mondo circostante.